Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Xlender e oggi andremo a vedere, come richiesto da uno di voi, come si crea una loot bag Cioè di fatto un oggetto che cliccando col testo destro ti apre un inventario in cui vengono generati randomicamente degli altri item Ovviamente a scelta del creatore della mod E appunto andremo a vedere come si crea, è una cosa un po' complessa, non troppo, non perdiamo altro tempo e iniziamo Come prima cosa ci serve la texture, quindi andiamo a crearla, per esempio per la texture potrei utilizzare completamente a caso questo affare qua Diamo anche un colore, per esempio blu Staviamo questa texture ovviamente come item, per esempio chiamiamolo loot bag e possiamo anche chiudere la texture Adesso andiamo in mode elements e creiamo un nuovo item Dategli il nome, scegliete il texture che abbiamo appena creato e poi andate ad aggiungere tutto quello che vi può interessare Per esempio informazioni speciali, magari anche se ha un effetto come se fosse incantato E vi dicendo, un consiglio però è mettete come max stack size uno per evitare conflitti, problemi o altre cose all'interno appunto di questo item E poi queste altre impostazioni, modificate come più preferite Poi in successiva, dobbiamo poi legare una GUI a questo oggetto Cosa che non facciamo adesso, perché prima dobbiamo appunto creare la GUI Poi in successiva, anche le procedure dovremo crearne alcune Adesso salviamo le mette della mod E andiamo appunto a creare la GUI Loot bag GUI, ci serve una GUI con gli slot e poi andiamo a mettere tutti quanti i vari slot che ci interessano Utilizzeremo gli slot di output, perché non vogliamo che il player utilizzi questa loot bag come uno zainetto Vogliamo semplicemente che possa togliere gli oggetti dai vari slot della GUI e non metterli A parte ovviamente gli slot dell'inventario Quindi andremo a mettere soltanto slot di output Ok io ne ho messi 10, voi potete mettere quanti ne volete Da 1 a infiniti Salviamo questa elemental mod e non ci serve più riaprirlo Ricordate ovviamente gli ID che sono da 0 a 9 Se avete fatto 10 slot o comunque sia il numero degli slot con il loro ID Quindi adesso andiamo di nuovo in loot bag, modifichiamola E andiamo fino a pagina della GUI E mettiamo appunto la GUI che abbiamo appena creato Qua mettete il numero degli slot che avete creato Che come anche consiglia qua è il numero massimo degli ID dello slot più 1 Nel nostro caso è 10 E lo stack massimo che ci può essere questo slot Vi consiglio di lasciare 64 Pagina successiva E adesso andremo a creare tutte quante le varie procedure Come prima cosa ci serve una procedura che ci crea il nostro loot Quindi facciamo che quando il player clicca in aria con l'oggetto in mano Ha una procedura Però la dominiamo quando il player clicca col tasto destro Perché dopo la andremo ad applicare anche quando clicca su un blocco Quindi crea procedura E come prima cosa ci serve un loop if do Perché adesso andremo a far sì che appunto si genere il loot All'interno della loot bag quando il player la apre Però dobbiamo far sì che questo loot non venga generato ogni singola volta Che il player apre la loot bag ma solo la prima volta che apre ogni loot bag Quindi andremo ad utilizzare gli nbt data tag Quindi andiamo su item procedures E prendiamo questo qua L'nbt data tag logico Lo nominiamo opened Quindi appunto aperto Andiamo a prendere in logic in loops questo qua Lo attacchiamo qua e andiamo in logic in loops E prendiamo il segmento true E lo mettiamo su false Il player controlla che se la tag opened è falsa Allora genera il loot Se invece è vera Non lo genera Quindi andiamo appunto di nuovo in item procedures E scendiamo fino a prendere questo qua Mettiamo qua di nuovo la stessa data tag Quindi opened E lo attacchiamo qua sotto Quindi appunto se la data tag opened è falsa Diventa vera Però diventare vera dopo che la procedura ha creato tutto quanto il loot Quindi adesso andremo appunto a far sì che crei il loot Come prima cosa ci servono delle variabili locali Devono essere variabili numeriche E dovete fare una variabile per ogni singolo oggetto che volete all'interno della loot bag Per dire io voglio quattro oggetti possibili massimi E quindi andremo appunto a creare quattro variabili Per esempio chiamiamola item1 Mi raccomando devono essere tutte quante numeriche Item2 Anche questa numerica Item3 Numerica E infine item4 Ripeto anche questa numerica Abbiamo creato le nostre variabili locali Ripeto Create tante variabili Quanti item volete che vengono generati E andate a Subtipet library E scendete fino a Generate a number between 0 and 10 Attaccatelo qua tra il do e appunto l'anembedded tag E duplicatelo per tante volte quante avete creato le variabili locali Quindi nel mio caso 4 E ovviamente poi andate a sistemare le variabili locali qua e mettete tutte le variabili che avete messo Poi se sapete cosa state facendo andate poi a modificare anche questi numeri qua Che è il numero massimo che viene generato Per dire adesso genera un numero da 0 a 10 Se qua mettiamo 100 genera un numero da 0 a 100 Noi lasceremo 10 per comodità E questi qua servono in pratica per regolare la rarità dell'oggetto che viene generato Ma la rarità appunto non viene data in base al numero qua massimo ma in base al numero che uscirà Perché per dire nella variabile item1 verrà generato un numero da 0 a 10 Per dire verrà generato 10 E quindi appunto la variabile item1 sarà 10 Adesso andremo a creare dei blocchi procedurali che controllano che questa variabile qua Abba un numero maggiore o uguale a un altro numero Per dire se è maggiore o uguale a 10 Avrà una possibilità su 11 che l'item legato alla variabile item1 venga generato Anzi vi consiglio qua di mettere 9 Così avrete una cosa in percentuale Quindi adesso andiamo a creare i vari blocchi per generare gli oggetti Ci serve come prima cosa un loop if do Poi andiamo in custom variables e prendiamo questo qua Andiamo anche in logic operation e prendiamo questo qua E uniamo in due blocchi e poi andiamo in math e prendiamo questo blocco qua Qua mettiamo maggiore o uguale E poi andiamo in do e apriamo procedure e scendiamo fino a questo blocco qua set E appunto così in pratica questo blocco qua piazza l'oggetto che ci interessa negli slot Andiamo a rimuovere questi due oggetti qua e duplichiamo questo Solo questo blocco qua non tutto quanto Andiamo a mettere sia qua che qua Qua dovete mettere il numero degli slot che vi interessa Quindi nel mio caso sono 10 slot con l'id da 0 a 9 E allora va bene che ci generi un numero randomico tra 0 e 9 Se voi avete per dire 12 slot quindi l'id da 0 a 11 dovete appunto mettere qua 11 Noi lasciamo ripeto 9 E qua dovete mettere invece quanti oggetti massimi volete che ci siano Per dire se volete che ci sia un massimo di 64 item per questo oggetto che andremo qua a selezionare Mettete qua 63 Se invece volete che il premio possa trovare nel massimo in rarissimi casi 5 dovete mettere 4 qua E poi appunto andate a selezionare l'item che volete che venga spawnato Per dire io voglio che venga spawnato il diamante grezzo E voglio che venga spawnato con una rarità di 1 su 10 Poi per dire appunto adesso duplico questo blocco qua Lo attacco qua sotto e metto come variabile item 2 Così che appunto questo qua è lo secondo oggetto Per dire ci metto un letto rosso Ovviamente il letto non è staccabile quindi qua devo mettere 1 E poi voglio che venga generato con una rarità di 7 su 10 Lo duplico ancora Vado a mettere di nuovo questo qua Metto la variabile item 3 Voglio trovarlo sempre quindi metto come numero 0 E come oggetto scelgo vediamo per esempio i carbone E voglio che venga trovato con un numero randomico tra 0 e 63 E però io sono un cattino perché ho dimenticato una cosa fondamentale Dobbiamo aggiungere questo qua in pratica qua Perché se non lo aggiungiamo e non mettiamo poi qua il più 1 Può essere che ci generi 0 oggetti dell'oggetto qua desiderato nella nostra loot bag E è una cosa che non vogliamo che succeda Quindi adesso andiamo appunto a duplicarlo ed applicarlo anche alle altri item Qua avevamo detto massimo di 1 Anzi massimo di 0 perché così ci genera appunto un numero randomico tra 0 e 0 Più 1 quindi massimo di 1 Qua lo duplichiamo e mettiamo qua un massimo di 63 E ripeto così facendo aggiungendo questo più 1 Faremo sì che il giocatore trovi almeno uno di questo oggetto qua Se questo oggetto viene generato Quindi adesso andiamo a creare appunto l'ultimo Lo attacchiamo qua sotto Mettiamo item 4 E voglio provarlo con una probabilità del 50% Quindi qua metterò 4 E voglio trovarne al massimo 32 Quindi metterò 31 E come oggetto per esempio mettiamo il blocco di smeraldo L'unico problema di questa procedura che abbiamo appena creato È che può capitare che generi due oggetti diversi nello stesso slot E quindi andrà a generare l'oggetto che c'è dopo Per dire per esempio Se genera il diamante nello slot con l'id0 E poi genera anche lo smeraldo nello slot con l'id0 Ci sarà soltanto lo smeraldo e non il diamante E questo qua è l'unico problema che ha questa procedura Tuttavia per evitare che succeda questo qua In pratica bisognerebbe complicare la procedura in maniera incredibile Quindi possiamo anche ignorare questo piccolo problema E lasciarla così com'è Salviamo l'elemento della mod E torniamo su loot bag Perché appunto andiamo ad applicarlo anche quando il pay clicca sul blocco E poi andiamo when item in inventory tick Creiamo la procedura E come prima cosa aggiungiamo un loop if do Poi andiamo in logic operation Prendiamo questo qua Lo attacchiamo qua Mettiamo end e se volete non è obbligatorio Potete mettere gli input esterni Così è più comodo E adesso andremo a duplicare questo oggetto end Per tante volte quanti slot avete E andiamo ovviamente ad attaccare ogni volta qua Quindi andiamo a duplicarlo per 10 volte Fatto Adesso andiamo in item procedures E dobbiamo prendere il tag logico Mettiamo qua opened Che è la nbt data tag che abbiamo messo prima Andiamo in logic operation E prendiamo questo qua Lo attacchiamo qua E andiamo in logic loops E prendiamo il true E lo attacchiamo qua E in pratica così facendo appunto questa procedura controlla Che la loot bag che stiamo andando a creare Sia già stata aperta Perché in pratica quello che stiamo facendo adesso È far sì che quando la loot bag sarà vuota Scompaia dall'inventario del player Ma solo quando è vuota E non appena è nell'inventario Non quando ha degli oggetti dentro E via dicendo Questo blocco qua è fondamentale Perché in pratica se Non mettiamo questo qua La loot bag scompare appena è nell'inventario Perché se vi ricordate la loot bag ha un inventario Sì Ma è vuota Quando viene generata nel gioco E gli oggetti vengono messi al suo interno Solo ed esclusivamente Quando il player le apre per la prima volta Quindi appunto Dobbiamo per farci far sì che Ci sia una tag Che utilizziamo quella di prima Cioè la tag opened E deve essere vera E adesso poi andiamo di nuovo in altre procedure E scendiamo fino a prendere questo blocco qua Andiamo poi in logic operation E prendiamo questo blocco qua E in minecraft components E prendiamo questo qua E li montiamo tutti quanti E lo attacchiamo qua Come oggetto mettiamo l'aria E appunto questo blocco qua Andrà contro l'aria Quindi nello slot con l'id 0 Ci sia l'item d'aria Ovvero sia non ci sia nessun item Quindi andiamo a duplicarlo Per tutte quante queste volte qua E adesso andiamo a mettere in tutti questi slot qua I vari id degli slot Quindi ne abbiamo 10 slot Con i id da 0 a 9 E andiamo appunto a mettere i vari id da 0 a 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E in pratica quello che abbiamo fatto È che quando la root bag è già stata aperta E tutti quanti i suoi slot sono vuoti Questa procedura come prima cosa Chiude l'inventario della GUI Per evitare eventuali conflitti O probabilmente nel gioco E poi fa scomparire dall'inventario del player Appunto la root bag Quindi scendiamo E mettiamo questo blocco qua in fondo Togliamo questo qua Questo qua è importante che appunto lo togliete E non semplicemente che andate a scegliere la root bag Perché se no potrebbe capitare Che il gioco tolga una root bag Non ancora aperta dall'inventario del player Quindi appunto andiamo a eliminarlo Duplichiamo questo qua Provided item stack E così facendo il gioco andrà ad eliminare Solo ed esclusivamente la root bag in questione Cioè appunto quella qui è legata a questa procedura Adesso possiamo salvare l'elemento della mod E salviamo anche i cambiamenti a questo qua Aspettiamo anche che finisca di ricompilare E andiamo appunto a testarlo in gioco Eccoci nel mondo Andiamo a prendere la nostra root bag Eccola qua E apriamola Come vediamo c'ha l'inventario che abbiamo creato E c'ha gli oggetti E adesso è un passo appena l'abbiamo svuotata E' tutto perfettamente funzionante Adesso ne aprirò un po' per capire Qual è la realtà degli oggetti In base ai valori che abbiamo messo noi Bene Questa è in pratica Sono gli oggetti che abbiamo ottenuto Prendo 30 loot bag Con le probabilità che abbiamo messo noi Vorrei fare presente Che non c'è neanche un blocco Di diamante grezzo Nonostante io abbia messo Una probabilità di 1 su 10 Quindi effettivamente le probabilità Non sono lineari Ma sono esponenziali Cioè una probabilità di 1 su 10 E' una cosa estremamente rara Mentre una probabilità di 5 su 10 E' abbastanza comune E infine una probabilità di 10 su 10 Ovviamente è certa Queste qua sono appunto le probabilità Del percentuale che abbiamo ottenuto Se volete fare i vostri calcoli Fateli pure E niente Il tutorial è finito qui Spero che il video di oggi sia piaciuto Qua c'è un punto luminoso Completamente random Da XTrader è tutto XTrader Piazza un letto